Sì, alle mie spalle la Presidente del Consiglio sta ancora rilasciando le dichiarazioni alla stampa dopo il punto sulla sicurezza qui in Prefettura Milano dove questa mattina è proseguita l'operazione Stazioni Sicure. La Presidente del Consiglio insieme al Ministro dell'Interno Piante Dosi ha incontrato i vertici delle forze dell'ordine, il Prefetto Saccone, il Sindaco Sala, soddisfazione per la presenza a tappeto delle forze dell'ordine nelle grandi città, un modo concreto ha detto la Premier di tornare a far vivere luoghi come le stazioni in modo pieno e dare così il senso concreto della presenza dello Stato. La sicurezza ha detto la Presidente del Consiglio, è una condizione di libertà, allora ascoltiamola su questo, Polini a voi. E crediamo che sia un modo molto concreto di tornare a far vivere ovviamente un luogo centrale come la stazione in città importanti, come Milano, come Roma, come Napoli, importanti ovviamente per le tante persone che usufruiscono dei servizi e per i tanti turisti che arrivano, di tornare a far vivere pienamente questi luoghi, di dare il segnale a una presenza continuativa dello Stato, non sono iniziative spot, è un lavoro che intendiamo portare avanti.